Laudetur Jesus Christus, cari amici teleradioscoltatori e Pierluigi Bianchi Cagliesi che vi parla oggi 18 novembre 2021 per il nostro commento del giorno. La situazione sta cominciando sempre di più a presentare falle, crepe in questo apparente restringimento di questo apparato che tende sempre di più a schiavizzarci, a renderci sempre più vittime di un sistema che ormai è chiaramente un sistema totalitario, dittatoriale, in cui le libertà individuali sono ridotte al minimo però si presentano sempre di più ogni giorno delle crepe, dei cedimenti, delle situazioni che mostrano come da un momento all'altro questo sistema comincerà lentamente a implodere e nel momento in cui naturalmente poi crollerà, il crollo sarà repentino, totale e tutta una serie di conseguenze naturalmente si determineranno con questo crollo e provocheranno poi un precipitare degli eventi cioè una situazione di emergenze su altri fronti che già si cominciano a delineare in questo momento vedete con tutti i fronti di guerra che si stanno aprendo, con un fenomeno migratorio ormai fuori controllo soprattutto per quanto riguarda il nostro paese e oltre tutto con un aumento impressionante da criminalità e un ingresso anche di presenze sempre più preoccupanti anche dal punto di vista di possibili emergenze dovute al terrorismo o ad attentati che si potrebbero determinare nel nostro paese e nel tutto la crisi migratoria al confine della Bielorussia con la Lettonia, la Lituania, la Polonia e come voi vedete dalle notizie che arrivano è aumentata notevolmente l'intensità proprio in questi ultimi giorni con migliaia e migliaia di migranti che si sono avvicinati al confine polacco, quello della Bielorussia e si rifiutano di lasciare l'area. Alcuni hanno tentato di entrare nel territorio polacco rompendo dei ricinti di filo spinato e i paesi dell'Unione Europea hanno accusato invece Minsk, cioè naturalmente il governo di Lukashenko della Bielorussia di aver deliberatamente provocato la crisi e hanno chiesto maggiori sanzioni contro la Bielorussia perché vedete la solita politica dei due pesi e delle due misure vuole che se naturalmente chi apparentemente crea dei problemi come in questo caso si vuole far credere additando le responsabilità a Lukashenko, presidente della Bielorussia che si è messo contro tutta una serie di ricatti che l'Unione Europea gli stava imponendo in tutti i modi soprattutto sulle misure anti-Covid e allora lui diventa un nemico e si dà diritto agli altri paesi naturalmente di erigere muri, di difendersi, di fermare le ondate migratorie. Se però invece questo succede nei confronti del nostro paese se allora tutto va bene, tutti possono entrare, non ci sono assolutamente misure che possono ostacolare i flussi perché questo invece è un diritto dei migranti di entrare quando vogliono e quindi come vedete questa è la politica dell'Unione Europea. Pensate che secondo proprio gli ultimi dati che stanno arrivando dalla parte Bielorussia del confine si sono radunati circa 4.000 migranti e si stima che ce ne siano molti 10.000 che si stiano preparando ad entrare in Polonia. Quindi c'è un comitato che è stato costituito per il confine di Stato bielorrusso che ha ammesso che ci sono vari rifugiati dall'Asia e dall'Africa che si stanno dirigendo verso il confine della Polonia. Insomma il Ministero ha affermato che la situazione dei rifugiati proprio al confine è rimasta estremamente tesa perché migliaia di rifugiati tra cui un numero significativo di donne e bambini sono fermati davanti alle barriere polacche sulla linea di confine e il presidente bielorrusso proprio Alexander Lukashenko ha affermato che i paesi occidentali sono i veri responsabili di questa situazione perché sono proprio come dicevo inizialmente le loro azioni hanno portato le persone a fuggire dai paesi devastati dalle guerre che sono scatenate da loro. Lukashenko poi ha definito un ricatto le azioni più recenti della Polonia perché Varzavia ha inviato carri armati al confine con la Bielorussia proprio sulla scia dell'attuale escalation di crisi tra i due stati che si è innescata con tentativi di questi migranti di penetrare nel territorio dell'Unione Europea. Poi ci sono state le dichiarazioni del ministro degli esteri russo Sergei Lavrov che ha dichiarato che si invitano caldamente i paesi dell'Unione Europea a evitare i doppi standard, i due pesi e le due misure nell'affrontare la crisi migratoria al confine tra la Bielorussia, la Polonia e la Lituania. Come vedete cari amici questa situazione vediamo come sta degenerando lentamente con prese di posizione dell'Unione Europea che appunto dicevo evidenziano in una situazione così evidente come questa delle contraddizioni clamorose. Sapete che gli ultimi due stati europei ad aver annunciato di voler costruire delle recensioni lungo il proprio confine sono stati proprio la Lituania, la Lettonia che si sono spaventate per un aumento di richiedenti di asilo in arrivo sempre dalla Bielorussia all'inizio dell'estate. Però negli ultimi anni queste barriere per tenere fuori i migranti sono state costruite anche in Polonia, in Ungheria, in Grecia, in Bulgaria e tra gli altri proprio anche paesi che fino a pochi anni fa l'Unione Europea riteneva come un diritto, come un obbligo che è quello di evitare che queste misure venissero prese, mentre invece in questo momento si autorizzano tranquillamente perché sono strumentalmente utilizzate come misure di contrasto, soprattutto nei confronti di quei paesi che hanno una linea preferenziale di rapporti e di contatti politici con la Russia. Fino a pochi anni fa l'Unione Europea riteneva il crollo del muro di Berlino come un atto decisivo della sua fondazione, quindi interpretava come un fatto positivo aver convinto i propri membri ad abolire le frontiere interne, vi ricordate grazie al trattato di Schengen si diceva bello, stupendo, fine delle frontiere, non esistono più libera circolazione di mezzi, libera circolazione di merci, di uomini, una meraviglia. Oggi invece che cosa succede? Che la Commissione Europea, nello specifico la commissaria di affari interni, questa Ilva Johnson, ha fatto sapere di non avere nulla in contrario alla costruzione di nuove barriere. Vedete, prima se si parlava di barriere, se si parlava di respingere i flussi, di difendere i confini interni, solo questo vale per gli altri, per l'Italia non vale mai. E oggi invece, dicevo, la Commissione Europea che cosa fa? Fa sapere di non avere nulla in contrario alla costruzione di nuove barriere. Ma vi sembra una cosa normale? Barriere fisiche, che sono poi un'efficace misura di protezione dei confini, di cui beneficia l'intera Unione, quindi si legge nella lettera, e questo strumento legittimo dovrebbe essere finanziato adeguatamente dal bilancio europeo, diventare una priorità. Questo è quello che dicono oggi, cioè ieri guai a parlare di barriere, oggi invece si dice addirittura, è un uso legittimo quello che si fa nel costruirle, vanno addirittura finanziate e vanno inserite nel bilancio europeo, diventando addirittura una priorità. Ma ecco, questi sono i fatti sconcertanti. Il fronte dei paesi a favore dei muri comunque si sta allargando ed è significativo che nessuno dei stati membri che di recente hanno costruito una recensione ai propri confini l'abbia poi smantellata, anzi esattamente il contrario. Secondo un calcolo del Centro Studi Transnational Institute, dal 1990 al 2019 nell'Unione Europea e nell'area Schengen sono stati costruiti circa un migliaio di chilometri di recensioni, quindi circa sei volte la lunghezza del muro di Berlino per una spesa totale di oltre 900 milioni di Euro. Però nel calcolo mancano i 508 chilometri che la Lituania ha da poco deciso di costruire al confine con la Bielorussia, quindi vedete che questa politica di erezione di barriere e di muri per evitare l'ingresso indiscriminato dei migranti è qualcosa che oggi viene addirittura incoraggiato e finanziato dall'Unione Europea. E nel frattempo possiamo aspettarci tranquillamente la costruzione di altri muri e lo sviluppo anche di nuovi controversi sistemi di difesa delle frontiere europee. Vedete cari amici come la politica dei due pesi e delle due misure adottata all'Europa quando gli fa comodo attivare una certa linea è qualche cosa che lascia veramente sbalorditi, si usa strumentalmente l'autorizzare determinate cose e poi negarle ad altri come se fosse la cosa più normale del mondo. Eppure vedete che la realtà dei fatti si impone su tutte le teorie più strampalate e anche deliranti dell'Unione Europea perché è evidente che quando ci si trova di fronte a una situazione di invasione è la cosa più normale che uno comincia a erigere dei muri a difendere il suo territorio, come fecero gli stessi monaci benedettini perché attorno ai monasteri benedettini dove il monachesimo iniziava a svilupparsi si riunivano le famiglie disperate che abbandonavano i centri urbani e attorno a questo gruppo di case che cingevano il monastero si erigevano le mura, si erigevano le mura per difendersi dai barbari. Questa è la realtà con cui cari amici è nato il monachesimo benedettino e poi successivamente il periodo più florido del cristianesimo che è quello del medioevo. E quindi questi muri vedete che oggi dovremmo abbattere per alcuni, come per l'Italia, ma edificarli per altri come per quelli che invece in questo momento devono difendersi dagli amici di Putin, hanno nel corso della storia dell'umanità preservato la civiltà dall'arrembaggio della barbarie. Ne sa qualcosa, vedete la grande civiltà cinese che proprio grazie a quella straordinaria impresa collettiva che portò alla creazione della grande muraglia cinese, ricorderete, che riuscì a difendere, pensate per ben duemila anni, i confini del proprio impero. E ne sappiamo anche qualcosa noi italiani che siamo eredi di quella civiltà romana che sopravvisse per secoli grazie a quel sofisticato sistema di fortificazioni che cingeva proprio i centri urbanici della città, il Limes romano. E ne sa qualcosa, dovrebbe saperne qualcosa anche il Papa di Roma, che vive ancora oggi in uno stato, quello del Vaticano, che è ancora oggi cinto dalle mura leonine, che sono alte 14 metri. E sapete che quelle mura vaticane furono erette dopo l'attacco subito ad opera dei Saraceni, un attacco terribile, nell'agosto dell'844 d.C. e difesero efficacemente la Chiesa di Roma e i suoi pontifici per oltre mille anni. E quelle cinta avevano ampie porte che servivano a far entrare gli uomini di buona volontà e muri per proteggere la civiltà. Cari amici dei radioscoltatori, quando il buonsenso finisce in pappa, allora la realtà stessa si impone brutalmente e ci mostra quali sono, vedete, al di là delle chiacchiere e dei blateramenti dei nostri uomini politici e dei cosiddetti ambienti culturali, quali sono le contromisure che si devono adottare se si vuole salvare la pelle e anche qualcos'altro. A tutti voi cari amici tedeschi ascoltatori, l'augurio di una buona giornata. Laudetur Iesus Christus. Grazie a tutti.